Questa è una scena di bullismo che si svolge davanti a scuola dopo le lezioni. Quando i bulli se ne vanno, la vittima fa capire che vuole denunciare le prepotenze fiscite, ma non trova le parole. Per aiutarlo a trovarle, bisogna risolvere tre minigiochi. Il primo minigioco consiste in un labirinto. Quando lo sprite arriverà all'uscita, apparirà la prima parola per combattere il bullismo. Gentilezza. Per passare al secondo minigioco, premere B. Il secondo minigioco consiste nel farlo impalzare la pallina sulla piattaforma verde, senza farla cadere sul rosso. Raggiunti i 50 punti, apparirà la seconda parola per combattere il bullismo. Mitezza. Per passare al terzo minigioco, premere 9. Il terzo minigioco è un quiz di 5 domande sul bullismo. Terminato il quiz, il gioco permette di premere 1 per conoscere tutte le risposte esatte, o di premere 2 per conoscere l'ultima parola per combattere il bullismo. Autostima. Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione!